E siamo giunti alla terza, anziani sul miglio, non corre Spedia ed Alvio, ne rimangono in otto, dove quasi no betting, Remo Gas, numero otto, Vincenzo D'Alessandro Junior, che ora si ritrae, avvia la macchina in velocità. Sevan Besta, a largo di tutti, impegna Siria Del Ronco per il comando, insiste l'allievo di De Filippo, sopravanza l'avversario, passa dopo duecento metri di gara. 13.2 lancio, e ha completamente la piegata, tira subito il Remo in barca a Sevan Besta e viene via Perfect Leader, pedinato da Remo Gas. Passa, dopo quattrocento metri di gara, in 29.9, e così Perfect Leader, con Remo Gas, che si deve adeguare per il momento. Cavalli al completamento dei seicento iniziali, che se ne vanno in 44.6, da 1.14 e mezzo. Cavalli che affrontano la piegata, Perfect Sevan Best, Remo Gas, Siria Del Ronco. Mezzo miglio, in 1.1 e un battito, e Marcel Griff ha il comando, e non Perfect Leader. Cavalli di fronte, con Marcel Griff che allunga, completa il chilometro in 15.7. 500 alla meta, Marcel Griff sostenuto, di dentro la Siria, allargo Sevan Best, pedinato da Remo Gas. 14.5, 1.32, i tre quarti di miglio. Si prepara Remo Gas, stappato, e va via in terza ruota. Retta d'arrivo, viene via Remo Gas, allargo di tutti. Passa sul belluto, come doveva essere. Vincenzo D'Alessandro non gli chiede più nulla, e non gli doveva chiedere più di nulla. Remo Gas, alla grande, mentre allargo arriva Ole Lea Almar, che appariglia a Marcel. 1.59, 9, 1.14, 9. Ma un lavoro pubblico remunerativo per Remo Gas, che ha chiuso 1.24 di quota. Vedete, queste sono le immagini, facile, Remo Gas fa la corsa agli altri, e lui ne dispone. Alla grande è Persemolino, con Ole Lea, che batte un Marcel Griff, che ha corso veramente alla grande. Si va ai numeri, 8, 9, 5, con Remo Gas, un trottone o giù di lì. Grazie. 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 Grazie.